Ragazzi, lo devo dire, gli impasti crudi sono più buoni dei dolci finali. Purtroppo però non possono essere mangiati crudi nella loro forma perché vedete il rischio principale è che possano contenere al loro interno diversi tipi di agenti patogeni assolutamente non gradevoli da mangiare. Il problema non è legato anche a tutti gli ingredienti, sono due i principali incriminati. Sicuramente avete sentito parlare della salmonella e delle uova che non dovrebbero essere mai mangiate crude, il che è meno. Le uova possono essere fonte di infezioni di salmonella, decisamente non gradevole da avere. Il rischio in realtà nei paesi industrializzati è relativamente basso di salmonellosi legata alle uova. Sarebbe necessario una persona mangiare circa 2000 uova prima di incamparne in un'infetta, quindi non sono tanto il problema le uova. Il vero problema è dato da lei. La farina. La farina rappresenta la fonte principale di contaminante alimentare crudo, soprattutto per quanto riguarda il patogeno Escherichia coli producente tossina di sciga, una tossina responsabile di una comune ma molto grave forma di intossicazione alimentare che ha mandato ben più di una persona in pronto soccorso. Questa combinata con il rischio delle uova purtroppo rende gli impasti per torte decisamente non sicuri da mangiare. Però, siccome a me gli impasti per torte e per biscotti piacciono da morire, ho deciso di crearne una versione che possa essere sicura e buona da mangiare cruda. Come ricetta di base ho utilizzato quella per i miei favolosi biscotti alle gocce di cioccolato, ma in linea generale le modifiche che ho affettuato a questa ricetta possono essere trasferite con le dovute precauzioni anche a tutti gli altri impasti. L'obiettivo era quello o di eliminare da dove possibile gli alimenti incriminati oppure di fare in modo che non pongano nessun rischio. Per le uova è stata abbastanza facile. Nella maggior parte delle ricette per dolci le uova non hanno nessun ruolo nell'aggiungere gusto. L'obiettivo principale è quello di aggiungere umidità all'impasto per renderlo più facile da amalgamare e, durante la cottura, tramite la coagulazione delle proteine, fornire un'impalcatura adatta per la crescita della forma dell'impasto in modo che abbia una consistenza giusta. Questo significa che se il nostro obiettivo finale non è quello di cuocere l'impasto, molto semplicemente le uova possono essere sostituite con del latte. In ragione ho visto di circa 50 ml di latte per uovo aggiunto nell'impasto. Il problema principale però è invece quello della farina, che non può essere sostituita in quanto un elemento chiave nel gusto e nella consistenza dell'impasto, ma quello che si può fare è fare in modo di neutralizzare la sua carica batterica. E questa può essere fatta con una cosa che abbiamo tutti in casa, un forno. L'obiettivo è quello di alzare la temperatura della farina fino a 65 gradi. Si tratta di una temperatura molto critica, poiché a questo livello la maggior parte delle proteine, e in particolare le proteine associate alle scerichia poli, vanno incontro a denaturazione, ossia sostanzialmente si sformano, perdono la loro forma originale e quindi non possono più svolgere la loro funzione. E questo sono due errori fondamentali. Il primo è eliminare e neutralizzare qualsiasi tossina eventualmente già presente all'interno della farina. La seconda è quello di abbattere completamente la carica batterica della farina stessa in modo da impedire la replicazione dei batteri. Per farlo basta una semplice teglia su cui verseremo la farina e la sfaggeremo uniformemente da mettere in forno. La temperatura richiesta e il tempo varie in relazione al tipo di farina, la quantità di farina che inserite, la temperatura iniziale, il grado di mite e via. Noi ho visto che un buon compromesso sono circa 180 gradi di forno prediscaldato per circa 10 minuti di tempo. Se avete un termometro per cibo a portata di mano è ideale in modo che potrete controllare la temperatura della farina. Cosa importante è tenerla sempre sotto occhio perché se vi accorgete che comincia ad imbrunire e a fare un forte odore di pane vuol dire che avete superato i 70 gradi e state cominciando a cuocerla e in questo caso dovrete rimuoverla. Tutto qua. Presi questi accorgimenti, la sostituzione delle uova con del latte, ovviamente pastorizzato, e la pastorizzazione della farina, praticamente qualsiasi impasto che voi abbiate in mente potrà essere convertito in una forma sicura da mangiare cruda. E ora se non ci credete ve lo dimostrerò. Qu'è sia un buon compromesso? Allora così, andiamo a fare un buonissimo! Allora così, andiamo! Allora così, andiamo a fare un buonissimo! Cari posti, piangolo, quindi anche la stazione delle uova di利оч gabbana, e poi, andiamo a fare mai buonissimo con la stazione. Puoi che si siano lasciata una sprappola delle uova? Questa essere pronta, è come una buonissima, senza coi? Uh! Quindi, andiamo a dare anche una buonissimo una buonissima, poi ci sia perfetta da quella persona ricohore e la amizia, dove buonissima. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Quindi ora controlliamo la temperatura della farina E abbiamo raggiunto abbondantemente la soglia dei 65 gradi Quindi adesso possiamo iniziare ad impastare Nella testa che la farina rafferbio un pochino per poterci lavorare con più sicurezza Comincio ad amalgamare gli altri ingredienti Parto dal burro che ho preventivamente sciolto nel microonde E ricomincio ad aggiungere lo zucchero E mescolo Una volta che è tutto ben amalgamato posso aggiungere il latte E come abbiamo detto BIM mi servirà esclusivamente per un po' di tiro pulita E l'essenza di vento Ok, avrò parecchia difficoltà adesso Un momento Una volta che è tutto incorporato E questa, penso l'abbiate capito, è una ricerca da fare una volta al mese dopo 10 km di forza Quindi lasciate da vedere le calorie Aggiungiamo le nostre bocchini Nella ricerca originale oltre alla farina c'è il bicarbonato di sodio e amido di mais Ma siccome questi due servono esclusivamente durante il processo di cottura E noi in questo momento non abbiamo intenzione di cuocere l'impasto, non l'abbiamo usata di meno Versiamo la nostra farina che adesso è pastorizzata, quindi sicura da mangiare in grutta all'interno E cominciamo a cuocere il sale rosso A questo punto, una volta che la farina è ben incorporata, aggiungiamo gli ultimi ingredienti Che sono le gocce di cioccolato E il caffè in over A questo punto abbiamo arrangamato tutti gli ingredienti Ora il passaggio finale è metterlo in frigo per circa una mezz'oretta In modo da consentire all'impasto di solidificare un pochino e soprattutto ai sapori di miscelarsi meglio Chiaramente va da sé che questo impasto non va assolutamente messo in forno Non mancano tutti gli ingredienti che avrebbero una buona cottura Le proteine delle uova, l'amido di mais, il bicarbonato di sodio Quindi mi raccomando, se modificate le ricette in questo modo Non, assolutamente non Mettetele in forno Il risultato non sarà per niente buono Finito di aspettare Il nostro impasto dovrebbe aver raggiunto una consistenza più solida I sapori si sarebbero dovuti miscelare meglio E adesso è della consistenza giusta E soprattutto È gustoso È sicuro da mangiare E anche per oggi abbiamo concluso Spero sia stato istruttivo di vostro gradimento In caso affermativo mettete mi piace ed iscrivetevi al canale Così sto di stare facendo un buon lavoro Non dimenticatevi inoltre di seguirci anche su Facebook ed Instagram E se vi piacciono i nostri design Potete trovare una di queste belle magliette nell'im sottostante È tutto per oggi Alla prossima